Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di Tipu City in apertura l'emergenza sanitaria dati ancora in calo nel nostro paese con la campagna che anche questa settimana resta in zona gialla. Numeri che fanno ben sperare anche a Torre del Greco questa mattina con le nostre telecamere abbiamo raccolto le opinioni dei cittadini torresi che guardano alle vacanze estive come ad un'occasione per rilanciare il turismo made in Italy. Spazio poi alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto un complesso sistema di frode fiscali. Due, gli imprenditori coinvolti. Buone notizie per l'utenza marittima al via i corsi di nuoto e voga. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, Vincenzo Accardo. Torre del Greco diventi una zona economica speciale. Un appello lanciato alla regione campagna dal deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo che ha partecipato ieri alla cerimonia di consegna delle borse di studio d'Amato agli studenti del Colombo di Torre del Greco. In chiusura la situazione di degrado in cui versa ancora la passeggiata a Portoscala a Torre del Greco nonostante numerose denunce e segnalazioni. Siamo stati in zona con le nostre telecamere. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Lieve calo della cuva epidemiologica in Italia. Questo è quanto emerso dal monitoraggio settimanale a cura della cabina di regia del governo. L'incidenza, nell'ultima settimana, sarebbe arrivata a 96 casi per 100.000 abitanti, mentre la scorsa settimana era a 123 casi su 100.000. Scende dunque l'indice RT, nella settimana precedente fissato a 0,89, mentre oggi si attesta sullo 0,86. Nessuna regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva. Quattro regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato e sono Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria. Le altre regioni e province, invece, hanno una classificazione a rischio basso. Due le regioni, Molise 1,08 e Umbria 1,03, hanno un RT puntuale maggiore di 1, ma con il limite inferiore sotto l'1. Scende il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e o aree mediche sopra la soglia critica, passando dalle 5 della scorsa settimana alle 3 di quest'oggi. Trattasi di Lombardia, Toscana e Calabria. Nessuna novità prevista dunque sulle colorazioni delle regioni in questo weekend, che dovrebbero rimanere invariate. Zona gialla ancora confermata anche per la campagna. L'unica novità potrebbe esserci in Sardegna, dove si registra la più bassa percentuale di RT a livello nazionale. L'isola potrebbe passare dalla zona arancione alla zona gialla a partire già da lunedì. È attesa intanto per il via libera alle vaccinazioni anche per gli over 40, così come annunciato in settimana dal commissario all'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. L'obiettivo resta quello di raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, fissato per la fine di settembre. Un traguardo riferito come medio e che dunque potrebbe essere anche anticipato rispetto alla tabella di marcia. Riaprire incentivando il turismo interno. È questa la missione del governatore della regione campagna Vincenzo De Luca, che nelle ultime settimane ha dato il via libera alle vaccinazioni nelle mete turistiche della nostra regione. Iniziativa raccolta di buon grado dei cittadini di Torre del Greco, propensi a scegliere le località turistiche del nostro paese in vista delle vacanze estive e aiutare così gli imprenditori colpiti da questi mesi di chiusura. Quali sono le sue considerazioni? Un dato fondamentale è quello di cercare di evitare di ripiombare in un altro lockdown, quindi la mia considerazione è quella di stare sempre attenti e vigili che non succeda un'altra volta, anche perché vediamo l'Inghilterra che sembra che la variante indiana sia cominciando a infettare parecchie persone, quindi i vaccini sembra che non coprono, quindi dobbiamo stare sempre attenti. Queste sono le mie considerazioni, spero che sia una cosa positiva perché comunque dobbiamo tornare alla normalità, altrimenti è la fine. L'estate può essere una parentesi di ritorno alla normalità? Lei ha avuto modo di prenotare già la sua vacanza? No, assolutamente al momento non credo e se ci dovesse essere la possibilità in Italia o prevalentemente la Campania, comunque la nostra terra è fenomenale, quindi non credo dobbiamo andare a buttare soldi in altre parti, quindi penso che la Campania, Puglia e Calabria siano le migliori zone. Magari potrebbe esserci qualche iniziativa per incentivare proprio il turismo interno? Certo, quello sarebbe un'opportunità, anche noi abbiamo il nostro mare, se le autorità riuscissero a migliorare un pochettino il mare, noi abbiamo un mare che i romani venivano a villeggiare qui, quindi era una zona di residenza storica, quindi sarebbe una buona opportunità. Speriamo che continui così, quindi vuol dire che la campagna di vaccinazione sta dando i suoi frutti, la gente comunque, a parte qualcuno, è più responsabile, quindi applica abbastanza le misure per fronteggiare questa emergenza e guardiamo il futuro con occhi diversi, con la speranza che si riprendi il commercio, insomma che tutte le persone possano ritornare pian pianino alla vita normale. Particolare attenzione è stata riservata alle attività turistiche, lei ha avuto modo già di prenotare la sua vacanza? Io al momento non l'ho prenotata ancora, però lo farò quanto prima, appena dopo che avrò la seconda dose di vaccinazione, giusto perché piace andare in vacanza e anche per muovere questo indotto che è un po' importante per l'Italia e auguriamoci che vada avanti perché per le vacanze tanti sperano di riprendersi pian pianino quell'attività che hanno dovuto abbandonare e qualcuno magari forse non riaprirà neanche più. Onestamente io non guardo con molta fiducia i prossimi mesi, ho molta poca fiducia nella gente visto quello che mi circonda e sono molto preoccupato, ho paura che l'allargamento che dia il governo Draghi equivalga a un liberi tutti e mi spaventa molto. Credi in ogni caso che questi possono essere mesi cruciali per la vita delle imprese, soprattutto quelle turistiche? Sicuramente sì, sicuramente sì, però ripeto, secondo me è molto pericoloso, bisognerebbe ci fossero molti più controllo da parte delle forze dell'ordine, cose che vedo onestamente praticamente zero, non c'è nulla assolutamente. Continua questa discussione riguardo l'orario del coprifuoco, si parla di spostarlo alle 23 o a mezzanotte, è d'accordo con questa eventuale misura? Potrebbe essere allungato decisamente il coprifuoco qualora ci fossero molti più controlli. Io non credo né alla buona volontà della gente né alla buona voglia degli imprenditori. A chiacchiere tantissime cose, a fatti molto meno poi. Basta guardarsi in gioco, vedere fuori dai bar quello che c'è e così via. Quindi a mio parere si potrebbe anche allungare, toglierlo completamente il coprifuoco. A patto però che ci fosse un controllo stretto, serrato, ferreo proprio. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito tra le province di Napoli, Ravenna, Piacenza e Caltanissetta un sequestro preventivo di beni del valore di 7 milioni e 400 mila euro, disposto dal GIP del Tribunale di Napoli a carico di tre società e due imprenditori coinvolti in un complesso sistema di frode fiscale. Le indagini sono state condotte dai finanziari del primo gruppo che, partendo da alert di rischio generati dal sistema postale di Napoli riguardanti l'anomalo utilizzo di alcuni conti correnti, sono riusciti a disvelare il disegno criminoso ideato da due imprenditori, uno napoletano e l'altro della provincia di Ravenna, operanti nel settore della carpenteria metallica. Agli indagati vengono contestati reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti attuati attraverso la costituzione di numerose aziende di settore operanti su tutto il territorio nazionale, con commesse da imprese per lo più del Nord Italia e dell'Est Europa. Alle società realmente esistenti venivano affiancate diverse società di comodo, costituite solo sulla carta allo scopo di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In tal modo si creavano ingenti crediti IVA, nonché l'abbattimento dell'imposizione fiscale grazie alla contabilizzazione di costi fittizi. Nel complesso istituzionalizio criminale, che dal 2010 al 2018 aveva prodotto oltre 100 milioni di euro di scambi commerciali solo apparenti, aveva utilizzato anche altre 33 persone e 28 società intestate a test di legno, che hanno concorso a vario titolo alla maxifrode fiscale. Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco, finalmente una buona notizia per l'utenza marittima. Si sblocca la situazione per quanto riguarda i corsi di nuoto e boga. Ringraziamo la capitale di Porto che dopo otto mesi hanno dato questo sblocco per fare questi nuoto e boga, perché li stanno facendo pure in tutta Italia, tra Genova, Fiumicino, Piano di Sorrento, e si è sbloccato pure qui in Campania. Io faccio un appello al nostro comandante della capitale di Porto, ho visto che il 24, il giorno 1, il giorno 4, di fare 1, il 24, il 25, il 26, perché abbiamo tantissimi e tantissimi lavoratori e ragazzi che si devono fare la matricola, solo noi ne abbiamo più di 150. Un appello ad accelerare i tempi? Di accelerare i tempi, sì, che possiamo avere altri corsi subito perché non andremo a fare al mare, al litorale. Un appello importantissimo al comandante di dare una mano in più, dare un paio di giorni in più, 24, 25, 26, 27, come vogliono loro, non aspettare una settimana per fare questi corsi. Ricordiamo che questi corsi sono necessari per potersi imbarcare. Sono necessari per fare, diciamo, la matricola nuova e cercare con la benedizione del Signore dove cercare chi è armatore potrebbe imbarcare. Questo ne fa l'appello a tutti i nostri associati che il giorno 17 avevamo un presidio alla capitale di Porto, dove il presidio è stato tolto da mezzo che siamo stati fortunati dicendo che si sono aperti in nuove voce. Ma lei oggi attraverso le nostre telecamere vuole lanciare un appello alle istituzioni anche per fronte alla grave piaga della disoccupazione per il settore marittimo in questo momento. Ci sono tantissime navi da crociere che fra poco dovrebbero andare all'inizio per andare al lavoro. Avete voi la possibilità, la forza politica non solo regionale ma nazionale di prendere tantissime ragazze di giovani che dovrebbero fare delle chiamate uffici di colloquimento che sarà difficile andare a imbarcare perché chi sa quanti turisti andranno in vacanza perché più turisti andranno in vacanza più alzano le tabelle di armamenti di tante società e imbarcano più giovani e più possibilità di imbarco. Questa qua ce ne sarà pochissimi. Io dico questo appello di dire guardate, ora inizieranno navi da crociere, verranno qua e mediteranno in Italia, verranno in Italia sveglia perché possiamo imbarcare tantissime ragazze giovani e tu prendi un padre di famiglia e ragazzi devi imbarcare su una navi da crociere e ti vuoi fare quattro mesi e due mesi di disoccupazione lo fate lavorare sei mesi e saremo di nuovo, di nuovo il motore, il cuore della città, dell'economia. Qua è tutto fermo, è tutto morto, non c'è lavoro, disoccupazione, magazzini chiusi solo che ci stanno queste navi da crociere che possiamo imbarcare moltissimi, gli italiani non siamo razzisti, vogliamo che tutti gli extrocomunità, il nostro solo che è stato sempre questo, vengono pagati come gli italiani e vogliamo pure che si sta liberando il fatto dei vaccini. Sulla piattaforma, voglio dire una cosa a voi dei tibusiti e vi ringrazio, che tutti i marittimi non sanno chi è marittimo in continuità al rapporto di loro, CRL, abbiamo il codice fiscale dove sta scritto giù in basso, Regione Campania, non è buono il nostro codice fiscale, si fa la richiesta, non si fa la città dell'entrata, non si fa l'ASA, ma si fa al SAS, ex Cassa Marittima, si fa una domandina, potete, nella nostra associazione, ve la facciamo noi, dove noi li mandiamo direttamente al SAS di Napoli, loro ci daranno un codice provvisorio dove noi vi metteremo sulla piattaforma, potete accedere subito e poi vi arriverà dalla città dell'entrata, in nuovo il codice fiscale TEAM a casa direttamente, questa è la procedura, nessuno si deve togliere il turno particolare, nessuno deve fare un licenzio, perché qualcuno ha avuto una notizia, dicono vi dovete cancellare il turno particolare, tanti lavoratori di Costa Croce, non vi permettete, ma la cosa utile è che dobbiamo fare la richiesta perché il nostro codice fiscale non è buono, noi dobbiamo fare la richiesta e ci daranno un codice provvisorio per richiedervi subito per mettere a piattaforma e così poi vi arriverà a casa dalla città dell'entrata. Facendo sistema noi dovremmo fare in modo, visto che siamo la seconda maniereria d'Italia, fare in modo che la nostra città rientri nell'ADSP, cioè nell'autorità di sistema portuale, entro oggi non c'è, e la nostra città diventi definita zona ZES, che è una zona economica speciale proprio delle zone portuali che vengono individuate come zona strategica da parte della regione. Un appello alla regione Campania affinché il porto di Torre del Greco venga inserito nell'ADSP, l'autorità del sistema portuale del martirreno centrale e Torre del Greco riconosciuta come ZES, zona economica speciale. E il senso dell'intervento del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo in occasione della consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli dell'Istituto Colombo, evento seguito e raccontato online da TV City. Credo che la regione, anche stimolata dal governo, dalla città e dal Parlamento, debba intervenire a dare questo ruolo strategico alla città, che comporta tutta una serie di vantaggi economici di cui la città in questo momento ha bisogno proprio per far scoppiare il proprio potenziale. Il potenziale lo vediamo nei ragazzi. Pur essendo la seconda marineria italiana evidenziato, non siamo riconosciuti come zona economica speciale, con un ruolo strategico nei trasporti e nella logistica e la possibilità di usufruire di agevolazioni economiche per il tessuto produttivo. Non sono mancati i ringraziamenti del deputato alla dirigente scolastica Lucia Cimmino, con il riconoscimento del ruolo strategico della scuola sul territorio. Ringrazio soprattutto la dirigente Lucia Cimmino che ha avuto il ruolo in questi anni proprio di riuscire a creare questo ecosistema che oggi si esprime qui, anche in questa trasmissione, un ecosistema di vari attori che sono importanti per poter intervenire in una realtà come la nostra che è un'economia del mare, dove nel mare noi tutti ci riconosciamo. Ragazzi che hanno vinto le borse di studio, quindi gli eccellenti, ma anche gli altri che si riconoscono in un percorso che questo istituto sta dando e la città dovrebbe dare nel suo complesso insieme alle istituzioni. Siamo a metà maggio, la stagione estiva ormai è alle porte, pur se nelle limitazioni per la diffusione del Covid, ma la passeggiata Porto Scala di Torre del Greco è ancora in situazioni pietose. Come potete vedere la pavimentazione in legno è ancora assente o completamente dissestata, l'intero tratto ne è sprovvisto e bisogna camminare sui sassi e sulla ghiaia. Una situazione vergognosa se consideriamo che questo tratto nel corso dell'estate è frequentato da tantissime persone che vogliono godersi semplicemente una passeggiata lungo il nostro litorale, lungo la spiaggia. Tante persone vengono anche da fuori per poter godersi questo tratto, eppure a meno di un mese dalla riapertura, dal ritorno alle belle giornate, alle passeggiate, questo posto è ancora in uno stato di degrado pieno. Come potete vedere stanno aprendo anche i primi locali sul posto, i primi lidi, ma il Comune non provvede ancora una bonifica dell'intera area. In molti tratti la passeggiata è costeggiata da un vero e proprio fossato che la separa dagli scogli, una discesa pericolosa soprattutto considerando che la zona è frequentata già oggi da bambini e ragazzi, che specialmente con scarsa illuminazione potrebbero cadere o scivolare. Anche il tratto di via Calastro per raggiungere l'area giochi è invaso dalle piante, nessuna opera di giardinaggio, le erbacce invadono i marciapiedi rendendoli in molti tratti completamente inagibili. Come ogni anno, l'area che maggiormente dovrebbe rilanciare la nostra città e garantirle attrattiva risulta abbandonata al dissesto. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, non mi resta che augurarvi buon fine settimana e arrivederci a lunedì con l'informazione del telegiornale di TV City. Grazie a tutti.